Dalla crisi economica scatenata dal Covid a una perfino peggiore. Il rialzo senza precedenti delle bollette si sta abbattendo sui piccoli commercianti e sulle famiglie meno abbienti con una forza devastante. Nel Lazio sono sempre di più, infatti, coloro che, per non vedersi staccata la corrente, finiscono nelle mani degli strozzini. A testimoniarlo sono i tanti che in queste settimane si stanno rivolgendo alle associazioni che forniscono supporto contro l'usura, come lo sportello FAI, anti-usura di Ostia, presso i locali dell'asilo Savoia in via Casana. Cosa sta succedendo? Sta succedendo una specie di tsunami e una congiuntura di eventi hanno fatto sì che i prezzi dei beni e servizi siano aumentati in maniera esponenziale da un momento all'altro. Quindi le famiglie, gli imprenditori, gli esercenti si trovano in grosse difficoltà perché, oltre a queste spese, utenze, generi di prima necessità, stanno per aumentare le rate condominali e varie associazioni di categoria, tra cui anche ConfCommercio e Ascom, ConfCommercio Ostia, hanno lanciato l'allarme perché, per quanto riguarda le attività economiche, c'è il rischio o di chiusura o di finire in mano all'usuraio anche solo per pagare una bolletta. Sappiamo di esercenti che sono finiti in mano all'usuraio per una bolletta che da un giorno all'altro è aumentata anche del 40-60%. Il presidente dell'ambulatorio anti-usura di ConfCommercio Roma, Luigi Ciatti, chiede ora al Campidoglio di riaprire quegli sportelli dedicati ad aiutare le persone a uscire dalla morsa degli strozzini. Ovviamente abbiamo bisogno dell'aiuto anche da parte delle istituzioni perché è un momento di emergenza per il quale è necessario che le istituzioni mettano in campo anche strumenti eccezionali per affrontare questa situazione. Questa realtà dello sportello come strumento di passaggio di ciò che le istituzioni, la regione e il comune provvedono per mettere delle risorse a disposizione e il singolo cittadino. È per questo che noi stiamo cercando ora di creare una rete la più ampia possibile perché questa nostra realtà di comunicazione tra istituzione e cittadino possa essere conosciuta il più ampiamente possibile. ciao 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 an